È previsto giovedì 25 aprile alle ore 11 il taglio del nastro della prima edizione dello street food di primavera a Santa Teresa di Riva. Un evento targato fratellone e people on the move. La cittadina ionica è pronta ad accogliere la kermess enogastronomica che fino a domenica 28 aprile animerà il quartiere di Torre Varata, per l'occasione trasformato nel villaggio del gusto. L'impegno degli organizzatori è orientato a regalare una vera e propria esperienza gastronomica, un viaggio alla riscoperta dei sapori della nostra terra grazie a 22 operatori che hanno aderito per offrire le eccellenze della cucina siciliana. Siamo davvero soddisfatti, ha detto Claudio Prestopino, per essere riusciti ad organizzare anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale un evento che speriamo possa rappresentare un nuovo punto di riferimento nel panorama turistico del comprensorio ionico messinese e non solo. Vogliamo ringraziare per l'attenzione e la collaborazione di tutti i cittadini di Santa Teresa di Riva. Siamo pronti, abbiamo lavorato e lavoreremo alacremente anche nei prossimi giorni affinché tutto sia perfetto giovedì 25 al taglio del nastro. Abbiamo voluto dimostrare, ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice, che la collaborazione tra pubblico e privato può dare tanto. Grazie alla fratellona SRL Santa Teresa di Riva si appresta a vivere questa prima esperienza con il cibo e il gusto, coniugando tradizione ed innovazione. Ecco perché all'interno della manifestazione abbiamo voluto inserire il classico appuntamento con la festa della primavera. Con gli organizzatori abbiamo scelto questo periodo per cercare di destagionalizzare l'offerta turistica. Abbiamo infatti pensato ai tanti B&B presenti e alle necessità di iniziare a ragionare su un sistema capace di incrementare le presenze nel nostro comune. Ecco perché la scelta del Ponte delle Festività del 25 aprile. Speriamo possa essere un primo evento da ripetere e riproporre nel futuro. C'è grande entusiasmo e grande attenzione e ci aspettiamo una buona presenza. C'è grande entusiasmo e grande attenzione e ci aspettiamo una buona presenza. C'è grande entusiasmo e grande attenzione e ci aspettiamo una buona presenza.